La scuola è un valore fondamentale per la città, per questo riteniamo importante che si vengano a creare dialogo e sinergie costanti tra l'amministrazione comunale e l'istituzione scolastica. Sono le parole del centrosinistra vocherese guidato da Piero Ezio Ghezzi in merito ad un progetto scuola presentato oggi pomeriggio presso la sede del Partito Democratico in Via De Pretis. Il progetto si compone di cinque proposte che verranno presentate all'assessore con delega alla scuola Alida Battistella. Il centrosinistra propone di istituire la consulta della scuola con lo scopo di programmare e realizzare progetti organici pianificati a inizio anno e inseriti nei piani d'offerta formativa degli istituti in cui si è presente almeno un insegnante portavoce di ogni istituto cittadino. Viene inoltre proposto di dar vita nel mese di maggio a una rassegna teatrale e musicale delle scuole della città con spazi, service e materiali pubblicitari messi a disposizione dal comune. L'idea è quella di creare un festival che valorizzi la scuola come produttrice di cultura, una vera e propria rassegna annuale dove ogni istituto scolastico possa esibirsi in modo organico su un unico palco scenico. Un modo per le scuole di creare cultura e per il comune di valorizzarla, un progetto per Cisaghezzi che potrebbe essere stimolante anche dal punto di vista del senso di appartenenza per tutti i ragazzi, italiani e stranieri che studiano nelle scuole di Voghera. Il centro-sinistra propone inoltre percorsi di approfondimento giuridico-amministrativo integrabili nell'offerta formativa delle scuole sviluppati da funzionari dell'amministrazione comunale con l'obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alla pratica della pubblica amministrazione. Per il gruppo consigliare del PD e della lista civica Ghezzi Sindaco è importante che il comune ampli le opportunità di stage per la scuola secondaria, suggerendo percorsi che rispondano alle competenze sviluppate negli indirizzi scolastici e che istituisca un tavolo di lavoro tra scuole e aziende per creare una rete di opportunità anche in collaborazione con le associazioni di categoria. Di importanza fondamentale per il PD è anche la riconferma del tavolo sulla disabilità istituito per iniziativa dell'ex assessore Baggini, con l'intento di riunire tutte le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, gli specialisti di riferimento e di garantire un servizio ottimale agli alunni con bisogni educativi speciali attraverso una scuola realmente inclusiva che garantisca l'effettiva frequenza anche da parte di chi ha maggiore difficoltà.